Hey, nothing you can say, nothing's gonna train what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Oh, a quanto pare la rista settimanale, sono Hanzo e Genji, due fratelloni eh Che cosa si deve fare? Si usa Genji e Hanzo e basta Ultra più veloci e abilità più veloci E mappa Namura, proprio volete usare solo loro e potete fare solo quello, molta fantasia Proviamola Allora, eccoci qui Scegliamo Genji o Hanzo In difesa, Genji, assolutamente Genji No, non l'ho cambiato, fatemelo cambiare il rosso Ah no, sai che è rosso? Ah, se fosse migliore Ok, vediamo quanti Hanzo hanno Non si capisce un cazzo Ehi, ciao, salve amico Genji Io sono più bello Aspettate Eh sì, sono al di poco più bello Sarà una battaglia di rispingi i colpi praticamente Un Genji ha ucciso un Genji Ehi, sono al di poco più bello Eh, ohì è scappato aia ci siamo presi a spadata vicendo oh ragazzi qualcuno che li fermi nessuno come stanno già con questa la starda è andato a curarsi vero porca troia credo che ci uccidiamo sempre a vicenda ma nessuno si butta dentro buttatevi dentro io non ho incontrato un'ant ehi proposito di ultra non li ho più sentite e tecnicamente dovrebbero essercene una marea aia aspetta che li vado da dietro no mi sono buttato giù come un coglione so salvato no mi sono buttato giù come un coglione so salvato no come sto con questa olè olè la genji olè l'ho ammazzato in qualche modo io in qualche modo sono vivo diciamo forse è meglio così ehi e anche lui c'è la cura è vero sono stato riparato questa è una cosa noo volevo la cura volevo fregargli la cura volevo fregargli la cura oh hanno preso un anzo due anzo grande oh qualcuno qui ha usato la super no come stanno conquistando ehi olè idiota suo povero fratello un potere dell'idiota che cazzo è andato oh boh ho mancato la vita ok da dietro anzi salvataggio ciao amico chissà cosa sarà la battaglia finale dove sono tutti olè come avevo fatto solo un danno ma va là ciao bello allora qui c'è un anzo da qualche parte no ah sono tutti là fuori ciao anzo guarda quanti è anzo qua no ma genji contro anzo è troppo difficile però dopo farò anzo lo stesso qualunque cosa succeda io dopo farò un'intera partita con solo anzo eh certo che è passato oh no mamma mia no chi c'è dentro dove è andato l'ho perso bella è finita hanno tre anzo là in fondo che non stanno facendo niente ciao belli quanto sono figo tutti diversi no vabbè c'è un anzo uguale all'altro che strano un genji però c'era scritto che c'erano più veloci le super anch'io ho ucciso due anzo così non vale ah no ne ho chiuso tre yeeeh sono tre migliori hanno avuto da tutti due perché vabbè vendiamo il leggendario su oh yeeeh leggendario non sono io ero l'altro e ora tocca ad anzo anzo aia vittà vittà dov'è vittà vittà prima o poi imparerò a usare questa abilità sarebbe da usare in posti chiusi però non c'è cazzo di nessuno qua l'obiettivo è mio stiamo già vincendo nessuno gli disturba abbiamo vinto no gliel'ho conteso che cazzo è scappato sto imbecillo andiamo sopra e l'ho presa ciao amici anzi non ci avete messo mezz'ora noi abbiamo vinto così facile tutti i genji tranne uno no c'era un altro blu era perfetto era sempre lui non lo so quanti anzi erano tutti anzi erano loro per giunto in quattro erano poverini ecco perché abbiamo vinto così facile no non ci sono sette solitari bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.